Buona giornata da Leonor. Oggi è il rituale di Yoh. In questo caso è l'applicazione di questi Stavrunici. Adesso li attiverò e questi Stavrunici serviranno per due persone che me ne hanno richiesti e dopo farò gli altri. I Stavrunici servono a cancellare le cose negative dell'anno passato e invece aprire all'anno nuovo, quindi a cose positive che stanno arrivando. Questo è un rituale runico che si appoggia astronomicamente anche al momento appunto del sostizio invernale. Dopo passiamo all'apertura dei portali, quindi si parla da Yoh fino al 5 di gennaio, apertura dei portali tra il mondo appunto nostro, terrestre, a quello sotterraneo, a quello celeste. I portali sono aperti, quindi certe divinazioni per l'anno futuro sono, diciamo, preferibilmente si svolgono in questo periodo appunto per tutto l'anno. Vi lascio perché adesso devo attivare questi Stavrunici. A presto! A presto! A presto!